Questo è Jimmy E' il mio Clamidosaurus King L'ho presi che aveva già 7 anni E ha avuto una vita un po' rocambolesca Come si vede dalla sua pelle Un po' un po' tutta attaccata Anche se ora è quasi guarito Dove era prima è stato un po' ignorato Infatti tutti questi strati di pelle gli hanno creato un problema Che si chiama disectisi Cioè non riesce a farla muta Per questo problema di disectisi devo fargli un bagnetto ogni 2 settimane Per non dargli troppo fastidio Proprio per idratare la pelle e fare in modo che si stacchi Pensate che è stato ignorato talmente tanto Dal suo padrone prima di me Che quando l'ho presi pensavo fosse grigio E invece sto scoprendo piano piano che è rosso e bianco Aveva tantissimi strati di pelle sulla testa Però ora sta mettendo su peso e si sta riprendendo Ora ha un terrario provvisorio Che è quello Ma prestissimo farò un terrario tutto in legno Perché devo fare un video su come costruire terrari Come quello Se vuoi vederlo iscriviti al mio canale youtube Vai Jimmy Ciao